Guidi, i complimenti perché abbiamo visto una squadra molto organizzata che ha saputo mettere in difficoltà il Pescara e che ha meritato questo passaggio del turno. Grazie dei complimenti. Oggi sono uscito dal campo estremamente soddisfatto perché sapevamo di avere davanti dei giocatori di grande spessore una società storica che ha calcato palcoscenici importantissimi. Quindi era per noi un test estremamente importante dopo una prestazione che avevamo fatto veramente brutta a Pontedera contro il Montevarchi e quindi cercavamo delle risposte in quanto prestazione. E sapevamo che dovevamo andare con il cuore oltre l'ostacolo per venire a capo di una squadra importante qual è il Pescara. Quindi devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno interpretato la partita veramente di altissimo livello. Pescara si è messa con il 3-4-3, Valdifiori e Giambo in mezzo al campo hanno fatto un po' fatica anche nella fase di non possesso. Voi siete stati molto bravi ad occupare quegli spazi? Sì, sapevamo che in base al sistema di gioco che avrebbe attuato il Pescara ci sarebbero stati da interpretare spazi estremamente diversi. E' chiaro che giocando a due volevamo andare a giocare alle spalle dei due centrocampisti per poi andare a innescare la nostra velocità, i nostri inserimenti da dietro che potevano creare un po' di problemi alla linea difensiva del Pescara. Molte volte ci sono riusciti, molte volte no, però devo dire che la squadra ha interpretato bene la partita anche in base a quello che avevamo preparato. Ma cercavamo di fare la prima superiorità numerica per cercare di andare a prendere alle spalle i centrocampisti e anche se avessero giocato a tre volevamo, se avesse giocato Valdifiori davanti alla difesa, lo volevamo far scalare in avanti per andarlo a prendere alle spalle per poi andare a giocare in velocità contro i difensori del Pescara. Ci siamo riusciti e soprattutto siamo stati molto bravi nella prima costruzione perché è chiaro, facendo uscire la palla con più qualità dalla prima pressione del Pescara poi si è innescato quegli spazi da poter attaccare. E con lei nel primo tempo è stata costretta a un cambio per l'infortunio, è entrato Viero che è andato a fare un ruolo diverso rispetto al giocatore che è uscito, però sull'auto di destra poi sono nati praticamente tutti i pericoli del Terram. Sì, diciamo che è un momento che siamo anche un po' in emergenza perché abbiamo tante assenze. Aziosmanovic è un esterno difensivo che ha fatto molto bene perché ci ha dato grande intensità, noi volevamo andarli a prendere con vigore perché anche dati statistici del campionato dicono che Pescara e Terramo sono le prime due squadre per possesso palla e quindi è chiaro che quando giochi con due squadre che vogliono tenere il pallone devi, secondo me, la vince la squadra che riesce a pressare meglio e a mettere sulla difensiva la squadra avversaria. Per questo avevo scelto caratteristiche con un po' più di gamba, un po' più di furor agonistico in mezzo al campo. E' chiaro che poi con l'uscita di Bois ho dovuto riportare Aziosmanovic nel suo posto e Viero è chiaro che è di ruolo e quindi da quel punto di vista lì abbiamo aumentato la qualità tecnica del palleggio e siamo stati anche più pericolosi negli inserimenti. Le faccio la mia ultima considerazione che è un altro complimento perché il Pescara è sempre stato pericolosissimo nell'arco di tutto il campionato nei minuti finali, ha segnato tanti gol. Nonostante la superiorità numerica, il Pescara però nell'ultimo quarto d'ora non si è mai avvicinato nella vostra area di rigore. Sì, sono complimenti che mi fanno piacere, che giro ai ragazzi perché rispetto alle ultime scite hanno capito quello che stavamo sbagliando e hanno denotato grande solidità, pur essendo una squadra estremamente giovane perché poi una volta rimasti in dieci ha esordito e mi ha fatto molto piacere. Gli faccio complimenti anche Furlan che è un 2003 che era all'esordio e la squadra ha interpretato bene anche nei minuti finali al cospetto di giocatori come Ferrari, De Marchi e compagnia quindi c'è grande soddisfazione per questa prestazione. Massimo, una domanda da studio per il tecnico Guidi che ascolta. Sì, una domanda perché i complimenti non sono di pragmatica ma assolutamente sinceri, mister, perché insomma io il Teramo l'ho visto in diverse occasioni quest'anno, ha una chiara identità l'impronta è riconoscibile, però la domanda è questa dopo la pessima prestazione di Ponte Nera, forse la più brutta all'inizio del campionato e ci può stare. Non era facile reagire, è stato un bene giocare dopo tre giorni secondo lei? Ma questo penso proprio di sì perché quando vieni da delle bruttissime prestazioni come abbiamo fatto noi a Ponte D'Era dove siamo mancati completamente dal punto di vista dell'atteggiamento, dal punto di vista mentale, dell'approccio, della concentrazione è chiaro che la squadra doveva avere una reazione di orgoglio perché eravamo stati troppo brutti per essere veri rispetto anche alle uscite che avevamo fatto con avversari di spessore è chiaro che noi siamo una squadra estremamente giovani e questo in un percorso di crescita questi alte e bassi ci possono stare, l'importante è riuscire a recepire immediatamente gli errori e oggi la squadra ha fatto questo, ha reagito bene.